Partiamo dal 94esimo e partiamo dalla punizione sotto l'incrocio di Pali, cato tre punti al Verona. Eh no, è stata una punizione che volevo calciare a tutti i costi perché me la sentivo, insomma, poi dopo un po' di fortuna ci vuole perché non era proprio la posizione più adatta per me, però evidentemente mi ha premiato la convinzione con cui sono andato a calciare la palla. Si è sempre detto adesso in queste ultime tre partite l'orgoglio, lo spirito deve venire fuori per dare tutto e per chiudere al meglio il campionato, si riparte proprio da qui, verso Sassuolo. No, no, assolutamente, la partita di oggi deve essere, devono essere altre tre partite uguali a quella di oggi perché comunque, ripeto quello che ho detto anche Impoli, abbiamo una maglia importante quindi bisogna cercare di onorarla e cercare di rispettarla il più possibile. Quindi dobbiamo far di tutto per cercare di far bene e di non mollare mai. Un Verona che, insomma, ha confermato contro le squadre grandi di veramente riuscire a tirare fuori tutto quello che ha e togliersi delle soddisfazioni. Sì, non so, purtroppo diciamo che sarebbe stato meglio che avessimo avuto questa, come posso dire, questa cattiveria, esatto, con magari quelle a pari nostro per comunque rimanerli a lottare fino all'ultimo. Invece, purtroppo quest'anno, c'è mancato qualcosa e evidentemente con le grandi veniamo spronati di più. Rimane un po' di rammarico sicuramente, ecco, ultimissima domanda a Luca proprio su questi minuti finali che sicuramente a loro modo entrano nella storia proprio perché si si aspettava, ecco, se fosse finita così sull'1-1, sarebbe invece così qualche ora ancora di speranza, qualche ora di dignità in questo campionato così trebolato. Sì, no, no, beh, adesso comunque al di là, al di là di come andrà a finire il Carpi, comunque eccetera, oggi è un peccato perché abbiamo buttato via un campionato, perché con le dimostrazioni che abbiamo fatto oggi ci deve venire ancora più rabbia, ci deve essere ancora più rabbia perché avevamo tutte le possibilità per far bene, però quest'anno sarà sfortunato, infortuni, eccetera. Sono state componenti che purtroppo hanno avuto un altro tipo di esito.